Il 25 aprile è un'occasione per celebrare la festa della liberazione sulla base di quelli che sono gli ideali, i principi della democrazia ma anche antifascisti. Oggi a Forlì la città, le autorità civili e religiose si sono riunite per commemorare quello che è stato in quei giorni affinché non si ripeta più. Il 25 aprile è sempre una ricorrenza da ricordare fondamentale per il nostro paese oggi più che mai. Sì, è davvero importante coltivare la memoria anche dopo oltre 70 anni perché ormai i testimoni sono rimasti pochissimi di quegli anni ma quelli sono stati anni tradici in cui abbiamo costruito le fondamenta del nostro Stato, della nostra vivere in una comunità solidale e coesa. Ed è bene che noi quello che abbiamo ereditato sappiamo trasmetterlo ai giovani, alle nuove generazioni e lo dobbiamo fare davvero rivangando la memoria, il ricordo, la consapevolezza del sacrificio e anche lanciare segnali di speranza. Dei giorni di ricostruzione, di restaurazione di un paese che era distrutto ma anche di liberazione fine della seconda guerra mondiale, lei li ha vissuti? Io li ho vissuti, li ho vissuti perché noi uscivamo da un periodo molto lungo dalla guerra perché voi dovete considerare che noi in guerra non erano qui in Italia ma la guerra ha cominciato nel 1937, quando sono andati in Africa, poi sono andati in Spagna, poi hanno occupato l'Alberia, poi ha dichiarato guerra alla Francia che con un migliaio di morti disse Mussolini andiamo al tavolo della pace ma i migliaio di morti erano gli italiani, lui doveva difendere gli italiani non a dire con un migliaio di morti andiamo alla pace.